E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Questo è il principio con il quale si comprende che in ogni cosa c'è un movimento, un moto che rifluisce, una simmetria eterna tra i due poli. Esiste sempre una reazione per ogni azione, un abbassamento per ogni innalzamento. Ciò vale per ogni cosa, per l'energia e la materia, per gli uomini, gli animali e la mente. L'ermetico ha compreso questo principio, trovandone applicazione universale, ed ha anche scoperto certi modi per superarne gli effetti su se stesso, con l'uso di formule e metodi appropriati. Ciò avviene per mezzo della legge mentale della neutralizzazione. Se non si può annullare o arrestare il principio, si può sfuggire in parte ai suoi effetti. Compreso il principio, l'ermetico impara ad usarlo invece che subirlo. Quindi, se si polarizza su un certo punto, neutralizza la forza ritmica del pendolo che, oscillando, tenderebbe a condurlo all'altro polo. Se è vero che quasi tutte le persone che hanno raggiunto un certo autocontrollo riescono ad esercitare in parte questa funzione, il maestro ermetico lo fa volontariamente, raggiungendo quel grado di equilibrio e quella forza mentale oscillante che risulta incredibile ai più. Questo principio e quello della polarità sono stati studiati attentamente dagli ermetici e metodi di utilizzo, controutilizzo e neutralizzazione dei due principi rappresentano una delle parti più importanti dell'alchimia mentale ermetica. Grazie 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 Grazie